A volte... veniamo travolti dal ciclone. Ritorna da me. Sette anni. Ormai si è dimenticata della tua faccia da cazzo. Dicono sia tornato. Ho perso la memoria. Lui era... libero. Le regole sono semplici. Quello che sta sopra... fotti. Quello che sta sotto... è fottuto. A volte devi fare una scelta. Io non l'ho... ammazzato. Perché non sei morto? Dovevi essere morto! Volevo solo tornare. Trovatelo. A volte non si può tornare. Secondo te la verità non è reale. Non ti ricordi molto? Non è vero. La verità è che... non ho altra scelta, Nico. È arrivato il momento di usare le maniere forti. Bentornato all'Inferno. Chi sei tu? Nessuno. Volete scoprire se il trailer è entrato nella nostra classifica? Visitate il link nell'infobox e commentate sotto al video. Ricordatevi inoltre di cercare Screen Week e di iscrivervi a tutti i nostri social. YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. Per ogni notizia sul cinema, sulle serie TV, per il gossip dell'ultima ora e le recensioni delle ultime uscite, non perdetevi il nostro blog, blog.screenweek.it Volete inoltre rimanere connessi anche dal vostro smartphone Apple o Android? Scaricate le nostre app Screen Week e Screen Week TV. Sono gratuite. Ciao!